Intro Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, sono JoePad17 e oggi siamo tornati in un nuovo episodio dell'InfoTime Nintendo Il nostro classico appuntamento settimanale dove ragazzi vi svelerò gli eventi di questa settimana sui vari giochi Nintendo che normalmente vi porto sul canale Prima di iniziare ragazzi volevo avvertirvi che Splatoon anche per questa settimana rimarrà in vacanza, diciamo così Ricominceremo a giocare insieme dalla settimana prossima perché sarò via qualche giorno quindi purtroppo non ho tempo per giocare con voi Comunque non mancheranno gli eventi questa settimana sui vari giochi Nintendo che normalmente vi porto sul canale Perché come vi avevo già preannunciato quando vi ho pubblicato sul canale il video del torneo di Ferragosto 1 Giocheremo questa settimana ragazzi il torneo di Ferragosto 2 Ho deciso praticamente di creare un altro torneo uguale a quello che abbiamo già giocato perché purtroppo io sono riuscito a giocare solamente due gare a causa di problemi tecnici Allora come potete vedere a schermo vi ho praticamente già impostato tutto il torneo, le regole sono quelle che vedete sullo schermo Si svolgerà mercoledì 17 agosto dalle ore 13.30 alle ore 14.30 Naturalmente sarà un torneo aperto a tutti Ragazzi ci saranno solamente i tracciati del gioco base quindi potrete partecipare tutti quanti Il codice ragazzi lo vedete lì sotto per partecipare è quello lì che vedete a schermo che è praticamente 49 53 06 31 62 33 Perfetto allora inserendo quel codice lì praticamente quando andrete a cercare questo torneo online il torneo vi apparirà immediatamente a schermo Adesso direi invece di andare su Call of Duty Black Ops 2 perché a causa dei problemi tecnici settimana scorsa non ho potuto giocare su questo titolo Quindi dovremo recuperare anche quell'appuntamento lì questa settimana Perfetto ragazzi eccoci arrivati su Call of Duty Black Ops 2 Come vi avevo già detto pochi secondi fa la settimana scorsa non ho potuto giocare con voi perché praticamente mi è saltata la linea internet E non mi sono più riuscito a collegare in tempo Quindi l'appuntamento di settimana scorsa lo recupereremo questa settimana E ragazzi sarò online venerdì 19 agosto dalle ore 13.30 alle ore 14.30 Per poter giocare con me ragazzi dovete inviarmi l'amicizia sul profilo dedicato a Call of Duty Black Ops 2 Questo profilo lo uso solamente per questo titolo Lo vedete anche a schermo è Joppa17Cod questo è l'ID Quindi inviatemi pure l'amicizia posti ne ho Quindi il profilo non è per il momento ancora pieno Va bene direi che possiamo già terminare qua questo episodio dell'Infotime Nintendo Come vi ho detto non ci sarà Splatoon che è rimandato a settimana prossima dato che sarò via per vacanze Ragazzi come sempre spero che questo video vi sia piaciuto anche se è molto molto breve Se il video vi è piaciuto mi raccomando lasciate un bel mi piace Commentate, condividete, iscrivetevi al canale e ci vediamo in un prossimo episodio Sempre qui nell'Infotime Nintendo Alla prossima ragazzi